Dalla disperazione della morte di due figli e della moglie è nata la passione per il volontariato. Opere di beneficenza che hanno portato Germano Frioni ed un gruppo di volontari a raccogliere fondi e a realizzare diverse strutture in Africa. Nel 2011 l'associazione Dama Africa è diventata una onlus. Il prossimo obiettivo del gruppo è quello di terminare il dispensario sanitario in Tanzania. Per raccogliere fondi l'associazione ha organizzato una cena di beneficenza che si terrà sabato nel palazzetto dello sport a Tecchina di Alatri. L'associazione invita i cittadini a partecipare numerosi. Con un piccolo contributo sarà possibile realizzare una grande opera. Abbiamo pensato di costruire un dispensario, infatti nel 2011 abbiamo usato la prima pietra che erano due pezzi di mattone, insomma abbiamo pure faticato per trovarli. Ad oggi questo dispensario sta in piedi, è realizzato, è coperto e guarda una gioia soltanto pensarlo. Appena nata l'associazione portava il nome dei due figli di Germano scomparsi prematuramente. Uno si chiamava Marco e l'altro Daniele, quindi Dama, Dama che poi abbiamo voluto cambiare nome, donare, amore, misericordioso all'Africa. Molti i bimbi che attendono ogni giorno l'arrivo dei volontari di Dama Africa. Quando ci vedono oramai ci riconoscono dalla bandana, da quella a quell'altra e arriviamo noi magari, sì, ti paremo felici per quel giorno, per quella settimana e ti portiamo le pippi che sono le vostre caramelle che ci date. Diverse le strutture che l'associazione ha realizzato finora. Abbiamo realizzato una chiesa, abbiamo realizzato dei progetti per far studiare dei ragazzi da infermieri e ora abbiamo questo grande progetto che vogliamo portare avanti, la realizzazione di un dispensario che va a coprire un territorio vasto tipo Roma, da Roma a Napoli, dove non c'è nulla, per un semplice raffreddore si muore. Si effettuano donazioni anche con il contributo dell'otto per mille. Chi vuole fare una, diciamo, la donazione attraverso dell'otto per mille può farla liberamente a Dama Africa. I vostri soldi che ci affidati li portiamo noi personalmente in Africa, seguiamo i lavori, controlliamo. Domenica scorsa l'associazione aveva organizzato una gara podistica a Tecchina di Alatri. All'iniziativa di beneficenza avevano partecipato più di 100 sportivi. Ora l'appuntamento è per sabato.